Direi che iniziare questo video così è assolutamente fondamentale, chiudiamo l'anno 2022 ragazzi, un anno tra i peggiori del mercato delle cripto e anche di Bitcoin. Andiamo a vedere un po' quelle che sono state le classifiche di tutte le criptovalute nell'anno 2022, quello che è successo, un profondo rosso incredibile. Ci sono delle particolarità che sono uniche nella storia di Bitcoin, delle analisi su dati statistici e dati storici che possono anche indicarci quella che è una strada probabile anche nel 2023, soprattutto nell'immediato, quindi gennaio, febbraio e marzo ad esempio. Ad esempio la situazione attualmente è ancora in profondo rosso, è una situazione delicatissima, sicuramente l'anno 2022 sarà ricordato nell'anno della storia dei mercati delle criptovalute come il peggior bear market in termini sia di valorizzazione sia di fondamentali che sono stati intaccati proprio a livello di fiducia e di presenza. Ma è anche un anno in cui Bitcoin ha però ragazzi affrontato tante sfide, sfide che negli anni precedenti non aveva mai affrontato. Mi riferisco alla questione legata ai tassi di infrazione, all'incremento stellare dei tassi di interessi da parte della Fed, al primo quantitative tightening che è avvenuto in maniera così considerevole. È la prima volta che Bitcoin lo affronta, ha affrontato fallimenti importanti, crash dei protocolli della DeFi, è sopravvissuto anche all'ultimo fallimento dell'exchange di RTX, un ennesimo fallimento, questi li aveva già affrontati. Insomma, un anno intenso, un anno complesso, un anno difficile che sta ponendo anche l'accento su tanti punti interrogativi con l'ultima questione anche quella di Solana. Se per la prima volta una chain importante come quella di Solana ci lascerà le penne così come si suol dire anche oggi, un meno 10 ragazzi, ma non in termini di progetto, ma in termini di usabilità del progetto che magari verrà un po' abbandonato, potrebbe essere un po' abbandonato, o perché no magari riprendersi. Io una data poi su Solana ve la dico alla fine di questo video, va bene. Detto questo, è un video di briefing e di recap di tutto quello che è successo nel 2022, però vi devo chiedere ragazzi, con un anno, 300 video che faccio veramente da un anno, è un anno difficile così, lasciatemi un mi piace per questo video, perché è fondamentale per me, soprattutto fatemi sentire la vostra vicinanza, perché ovviamente siamo insieme da tanto tempo e in momenti complessi, come un bear market del 2022, è assolutamente fondamentale stare vicino. Quindi ragazzi, mi raccomando, su con i polliccioni, va bene, andiamo a vedere un po' di grafici. Inizio da questi ragazzi che sono le analisi del top di tutti gli assets e le criptovalute in termini di dollaro e veramente possiamo guardarlo anche sui crypto bubbles che sono ovviamente abbastanza standard, i crypto bubbles indicano pochissime cosettine verdi ragazzi e soprattutto qui non abbiamo la differenza per capitalizzazione di mercato, quindi GMX, BB, BGB e TVT, cioè sono comunque dei token appartenenti ad exchange e quindi utility token fondamentalmente non c'è una variazione che può essere considerata stabile in termini appunto di crescita, ma sostanzialmente sono dovute anche a politiche interne di quello che fanno questi progetti. Però andiamo a vedere invece la questione legata all'andamento in generale proprio sul sito di Messari, quello che è successo. Queste sono tutte le cripto, però ho messo una, vedete un filtro ragazzi, proprio per farvelo vedere, con una market cap superiore a 500 milioni. Quindi almeno andiamo a considerare le cripto un pochettino più grandi. Tra le cripto più grandi non se ne salva neanche una, perché abbiamo Trust Wallet che però adesso andiamo a vedere in pratica, Trust Wallet è sostanzialmente incrementato tantissimo per il boom che c'è stato da novembre, quindi nell'ultimo mese. Non è un incremento, eccolo ve lo faccio vedere diciamo su TradingView ragazzi, vedete che in pratica in sostanza anche qui nel 2022 c'è stato comunque un incremento, però il grosso della fette è avvenuto proprio da novembre che poi è stato anche ritracciato, però in sostanza è anche un po' frutto del caso questo incremento ragazzi, perché vedete che nel 2021 i prezzi di TVT, di Trust Wallet token, erano più o meno sempre in linea a questo livello di prezzo. Quindi è solo una casualità del fatto che magari all'apertura dell'anno del 2022 si trovava in una fase ribassista, con una struttura ribassista. E poi l'incremento è avvenuto in questa parte finale proprio a causa diciamo della questione di FTX, ma in pratica il suo prezzo naturale di equilibrio, lo standard che ha è intorno a questa cifra, quindi agli attuali valori anche lui fa un più 40%, ci mancherebbe però non è un reale trend ragazzi, è ancora un'oscillazione che bisognerà andare a valutare poi nel corso dei prossimi anni, quindi del prossimo anno. Quindi in sostanza questo Trust Wallet sì, un incremento c'è, però non è diciamo un incremento strutturale. Poi abbiamo solo stablecoin e poi profondo rosso infinito ragazzi, è inutile che mi perdo in tutta una serie di questioni, c'è sicuramente il progetto Toncoin che è quello che ha avuto in questo momento attenuto un po' di più, ci sono i token relativi alle chain di Tron, QNT di cui ne abbiamo anche parlato, poi quelli degli exchange come OKEX e anche UOB token, poi c'è BNB che è ancora attenuto, e poi ripeto ragazzi, una serie di altre tipologie di token che però siamo già a meno 50%, quindi diciamo in sostanza non c'è stata una grande differenza. Poi invece andiamo a vedere quelle che sono le variazioni delle criptovalute rispetto a Bitcoin, vediamo se questa volta Bitcoin nell'anno 2022 ha retto un po' il confronto e change verso Bitcoin, in questo caso ho inserito un altro filtro, quindi andando a eliminare quelle che sono le criptovalute inferiori a un billion, quindi soltanto le top, veramente le high cap verso Bitcoin e insomma ragazzi qui anche i dati parlano chiaro, escludendo tutte queste che sono in pratica delle stablecoin, c'è anche il progetto Leo che va evidenziato, ma più o meno è molto più stabile, insomma non è una stablecoin però è un progetto particolare, poi OGX, vedete, quindi OKB, poi c'è Tron che performa meglio TRX di Bitcoin, poi abbiamo Munero, Quant, Litecoin, BNB, Ethereum Classic, XRP, Dogecoin, performa meglio di Bitcoin, a questo punto io dovrei chiudere il video e andare a comprarmi un Pandoro per la disperazione ragazzi, perché vabbè, detto anche questo, vabbè, no, Dogecoin funziona meglio, performa meglio, tutto il resto però vedete, al di là di queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criptovalute, tutte le altre cripto sopra il billion performano peggio di Bitcoin, perfino Ethereum che questa volta chiude a meno 10 all'anno rispetto a Bitcoin, quindi Bitcoin regge meglio delle top criptovalute sopra un billion tranne queste 9 qui, quindi ancora una volta, nonostante la questione della sua dominance non è salita tantissimo, resta comunque uno strumento protettivo da questo punto di vista durante i periodi di bear market, ma abbiamo visto che in ogni caso ha perso quasi l'80%, quindi questo ragionamento sta in piedi tanto e non quanto perché quello che ci interessa non è poi andare a vedere se perde di meno delle altre cripto, ma quanto ha perso rispetto invece a quelli che sono gli altri asset ragazzi, il dollaro e quindi il cash è stato un disastro, ma rispetto ad SP500, Nasdaq 100, il gold per esempio, l'oro, come è andato Bitcoin? Andiamo a vedere anche questo dato che è veramente interessante, ve lo faccio vedere però solo e esclusivamente sui grafici direttamente, allora iniziamo dalla più interessante, insomma Bitcoin verso il gold ragazzi, come vedete insomma la questione è, questo è uno spread si crea a BTCUSD contro a XAUUSD, quindi il gold messo espresso in termini di dollaro, e quindi poi vengono rapportati un grafico di uno spread, questo ve la dice lunga già la questione insomma abbastanza evidente di che cosa è stato l'anno 2022, allora andiamo a metterci nella prima settimana del 2022, questo è l'anno 2022 di Bitcoin contro il gold e con una performance di meno 64% circa, quindi anche contro il dollaro, Bitcoin contro scusate il gold, l'oro, Bitcoin disastro insomma, vabbè, meno 64%, quindi da questo punto di vista c'è poco da fare, nonostante il ribasso non c'è neanche una fase in cui ci sia una leggera ripresa, cioè è proprio un trend totalmente ribassista nei confronti del gold, quindi in maniera diretta non c'è neanche una fase di ripresa, vi faccio vedere che invece sul Nasdaq c'è una fase di ripresa, ed è questo qui, allora questo invece è il grafico dello spread di Bitcoin Nasdaq, che è stato comunque negativo tutto il 2022, lo si può andare a controllare perché qui siamo a gennaio più o meno 2022, vedete in questa zona qui, in pratica Bitcoin aveva anche iniziato l'anno benino rispetto a Nasdaq, adesso è andato a chiudere al meno 46%, però vedete come anche rispetto a un indice che ha all'interno il tech, quindi quello che è più vicino a Bitcoin, in questo caso abbiamo un meno 46%, ma non è una cifra così impattante rispetto al meno 80% magari che abbiamo visto contro il dollaro, o almeno 64% che abbiamo visto contro l'oro, questo perché? Perché Bitcoin è più simile alla Nasdaq proprio rispetto agli altri asset di natura old economy, poi vi faccio vedere una particolarità, se non ci fosse stato il caso di FTX che era questo qui, avremmo chiuso probabilmente a meno 30%, meno 29, 5%, meno 30% o intorno a questa zona l'anno rispetto a Nasdaq, quindi anche quello ragazzi è molto significativo, cioè Bitcoin ha subito appunto tutta questa serie di disastri che lo hanno abbattuto sostanzialmente, vedete anche la questione qui del meno 28% rispetto a Nasdaq che è avvenuto solo ed esclusivamente proprio nel mese di novembre a causa del disastro di FTX, quindi quello che è successo con FTX. Qui poi c'è una fase di recupero, un leggero rimbalzino, quindi a differenza di per esempio sul God che non ha proprio nessuna fase di inversione, nel brevissimo c'è una leggera fase di inversione, considerate che queste sono candele anche settimanali, quindi non è proprio un'inversione così, è di breve, però comunque è già da un mesetto che sta in piedi queste candele versi verso Nasdaq, quindi questo è l'unico effetto positivo. Se invece andiamo a guardare per esempio contro SP500 che ha un grafico meno tech, sempre old però con all'interno anche i settori classici, quindi quelli anticiclici in generale dell'economia, quindi è più spalmato, cioè nei settori energetici eccetera, vediamo anche qui che la differenza invece è più impietosa nei confronti proprio di Bitcoin perché abbiamo un meno 55-56%, quindi si vede proprio come la differenziazione dei settori e delle categorie a cui appartengono i titoli classici seguono una scala rispetto alla rischiosità, per esempio abbiamo visto il Gold, Bitcoin perde contro il Gold 64%, il 55% contro lo Standard Pulse 500 perché è meno invasivo, meno rischioso del Nasdaq 100 e il 46% rispetto invece al Nasdaq 100 che è più rischioso, quindi tra tutti quelli che sono questi asset classici, quello che si avvicina di più al Bitcoin resta appunto il Nasdaq. Su alcuni titoli diretti però per esempio ha vinto Bitcoin, per esempio ho visto un articolo di Cointelegraph che portava che Bitcoin batte Tesla anche nel 2022 per esempio e questa cosa la possiamo anche andare a vedere. Ecco lo spread creato appunto tra Bitcoin e Tesla, intanto vedete che è leggermente più vicino, c'è uno spread che è quasi una specie di barra di congestione, sempre ribassista quindi in questo caso anche con i confronti di Tesla insomma negli anni precedenti è stato ribassista Bitcoin, però vedete che dal 2022, adesso vi prendo il 2022, è un leggero rialzo perché qui siamo nella settimana del 2022 quindi teoricamente fa un più 27 rispetto a Tesla nel 2022 che però in questo caso è anche frutto dell'ultimo rialzo, quello avvenuto proprio da settembre che è più causato del disastro di Tesla piuttosto che del rialzo di Bitcoin perché vi faccio vedere Tesla da settembre che cosa sta combinando e quindi è quello il discorso sovrappò ragazzi, vedete da qui da settembre Tesla è crollata a picco, andando da qui a perdere il 64% in questa fase temporale perciò è più per il problema di Tesla che Bitcoin sta vincendo quindi anche lì casualità dei tanti, non correlazione, non c'è un reale correlazione. Quello che impariamo da queste analisi è che Bitcoin è fortemente correlato agli asset tech, tutto il 2022 lo è stato, non si è ancora decorrelato, è molto poco correlato al gold, e pochissimo all'SP500 e in pratica non è stato per niente un titolo difensivo. Quindi Bitcoin ha affrontato quello che è stato l'anno 2022 andando a scalfire alcuni che sono stati. I suoi cavalli di battaglia di sempre, le idee, le affermazioni, le immagini che avevano preso piede un po' nella cultura di tutti gli amanti delle cripto cioè Bitcoin anti-inflazione abbiamo visto che non ha funzionato. Bitcoin difensivo rispetto a cresce di mercato non ha funzionato. Bitcoin un strumento, un asset che poteva diversificare il proprio portafoglio anche per investitori istituzionali rispetto a alcuni altri tipi di investimenti assolutamente non ha funzionato. O meglio, si poteva diversificare ma ampliando le perdite in questo caso. Quindi cosa significa? Significa che Bitcoin ha funzionato come una specie di volano per due sulla volatilità. In pratica è una ipertecno come asset, è un asset ipertech. Quindi questo è quello che l'anno 2022 ci ha dimostrato e i dati non mentono mai. Quindi al di là delle idee, al di là di quello che crediamo, al di là di quello che sono le nostre convinzioni, ragazzi io vi invito a ragionare sui dati che i mercati stanno indicando è considerare al momento, per quest'anno e per il 2023 nei primi mesi, fino a quando Bitcoin non dimostra il contrario, considerare Bitcoin come un asset tecnologico, cioè come lo considera l'intero mercato, con un volano, con un fattore X2 sulla volatilità dei mercati. Quindi come se fosse ipervolate e le cripto ancora più volate di Bitcoin stesso. C'è da spendere però qualche parola sul fantastico re delle criptovalute che ancora comunque performa bene poi riguardando gli anni precedenti, perché aveva fatto grandi grandi performance. Ma poi le mie parole sostanzialmente per quest'anno 2022 vanno a quello che ha affrontato Bitcoin, ragazzi. Per la prima volta una questione legata ai dati macro molto diversa dal solito, che abbiamo visto impattare pesantemente anche su grandi stocks, aziende che fanno earnings come per esempio la stessa Tesla, la stessa Paypal, altre tipologie di strumenti, come vi faccio vedere. Ecco ragazzi, la stessa meta per esempio, guardate, il disastro. Quindi è Bitcoin da solo in questa struttura, meno 73% ragazzi, da novembre 2022 è anche meta, insomma anche qui poi se andiamo a gennaio vedete, meno 70%. Queste sono tutte big, sono veramente le super big del mondo, che comunque hanno subito tanto. Questo vi dice cosa è stato l'anno 2022 in termini di macro finance, quindi di quello che era la politica del togliere la liquidità nei mercati. Quindi Bitcoin è la prima volta nella sua vita uno strumento, un asset giovane, senza un ruolo ancora definito, senza poteri forti che lo difendono, che comunque ha subito un attacco da mille punti di vista ragazzi, perché ha subito un attacco di natura macroeconomica, perché ha vissuto la fuoriuscita della liquidità, quindi la liquidità che viene fuori, viene tirata via dai mercati. L'abbandono da parte degli istituzionali, che oggettivamente hanno abbandonato, in questo momento Bitcoin l'hanno messo da parte, per gestire quello che erano i disastri sui portafogli classici, proprio dei tech, del Nasdaq per esempio, e di oggi la notizia di Goldman che pensa anche lui, come beh, insomma ve l'ho accennato un po' di tempo fa, che forse nel 2022 si potrebbe avere un soft landing, quindi non una recessione, quella è una salvezza diciamo per i mercati, perché probabilmente gli istituzionali attenderanno prima di vedere stabilirsi, la stabilità sulla questione hold, e poi magari decidere se riversarsi nuovamente su queste tecnologie. Però è la prima volta che Bitcoin ha subito tutte queste fasi ragazzi, quelle vere dei mercati economici, quelle che impattano realmente sui mercati economici, non una fase di bear market che era isolata solo al settore delle cripto, ma non solo questo, a questo si è aggiunto tutto quello che è stato il bear market delle cripto, sanguinoso, molto brutto, e difficile anche da gestire con fallimento di Luna, e dei protocolli DeFi, con la sperimentazione delle algoritmiche, delle stablecoin algoritmiche, al momento diciamo fallita, tra virgolette, e diciamo in progresso, ecco diciamo così, il fallimento per l'ennesima volta del secondo più grosso exchange al mondo, con brogli, quindi con frodi, che impattano anche a livello istituzionale sull'immagine di Bitcoin. Cioè Bitcoin ragazzi, nell'anno 2022 ha veramente subito tanti cigni neri, tantissimi, li ha retti un po', non benissimo come ci aspettavamo, però diciamo qualcosina è rimasta. Allora, io dico che dalle ceneri si può magari ricostruire un po' qualcosa, andare a guardare quello che in effetti il 2022 ci ha portato davanti agli occhi senza negare la realtà, ma allo stesso tempo poi, come da una rinascita, andare a vedere anche quello che è stato positivo, perché tutti questi dati, tutte queste fattori, tutti insieme, anche una guerra ragazzi, messi insieme, sono stati affrontati dal re delle criptovalute. Poi può succedere di tutto, anche negli anni a venire ragazzi, però intanto noi, il rialzo dei tassi della Fed più alto negli ultimi vent'anni, l'abbiamo affrontato, abbiamo visto una reazione, abbiamo una primo case study di Bitcoin. Concludo andando a ragionare su quello che potrebbe essere la prima fase del 2023, che già vi dico, non è positiva, perché ci sono delle particolarità anche dell'anno 2022, che è stato veramente difficile, al di là dell'entità del ribasso di Bitcoin, che ve lo dice anche questa tabella qui. Una tabella che riporta i quarter di Bitcoin, dove per la prima volta, dalla presenza di questi dati, tutti i quarter del 2022 sono stati negativi. È vero che qui abbiamo un meno 1 e un meno 2, quindi sostanzialmente è una negatività di natura estremamente casuale, quindi possiamo dirla così, però in pratica ragazzi, quarter totalmente negativi, non li avevamo mai fatti così, Bitcoin, i quarter tutti negativi. È la prima volta che avviene e questo vi dice anche, ve la dice lunga, sulla tipologia della fase attuale. Se andiamo a vedere invece, da un punto di vista dei mesi, intanto vabbè, vi faccio vedere i quarter per indicarvi che il quarter 1 è sostanzialmente un quarter negativo per Bitcoin, come il quarter e il Q3. Sostanzialmente il Q2 e il Q4 sono dei quarter che, dove Bitcoin regge un po' di più nella sua storicità, il Q2 è il più forte, però è quello anche dove ha subito i bear market pesantissimi, vedete, quindi è vero che qui ha avuto impatti notevoli, ma ovviamente questi dati ragazzi non vanno analizzati in termini di ripetitività di serie storiche, ma di idee generali per avere un'idea generale di quello che può succedere per esempio anche all'inizio di questo 2023, l'inizio del 2023 che probabilmente dovrà affrontare il concetto che anche gennaio non è un buon mese di solito per Bitcoin, vedete ragazzi, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie storiche negative con 1, 2, 3 e 4 positive, però non è un super disastro come per esempio il mese di settembre che invece vedete ha una serie storica praticamente quasi tutta negativa tranne in due casi, è vero che veniamo da una serie negativa già dell'anno 2022, però io insomma su gennaio starei un po' attentino, guardate invece febbraio sembra un po' meglio, febbraio è il mese migliore in pratica di Bitcoin insieme a ottobre, anche quest'anno ottobre vedete è stato positivo e anche febbraio è stato positivo nel 2022, poi gli unici mesi positivi sono stati febbraio, marzo, luglio e ottobre. Detto questo ragazzi cosa aspettarci all'inizio del 2023? Secondo me la gennaio 2023 sarà all'insegna della barra di congestione della riflessione per Bitcoin, se però perdiamo quei supporti che vi ho detto già nel video di ieri non c'è storia, stiamo in un ciclo annuale ribassista e il ciclo annuale ribassista io ve lo mostro in questo video qui, in questo grafico qui, cosa potrà andare a creare che è proprio il grafico finale di Solana che vi avevo promesso ed è questo qui ragazzi allora qualora noi fossimo in questa struttura di ciclo annuale iniziato a giugno come vi dico da un po', questa è la struttura di Solana ne abbiamo già parlato di Solana e questo è l'esito sostanzialmente di questo tipo di struttura ciclica quindi se questa view è corretta e al momento per esempio Solana la sta seguendo il ciclo finale che va a chiudersi in pratica l'annuale che è un biannuale ternario questo ragazzi si chiude a dicembre 2023 e quindi se siamo in queste condizioni passeremo un anno 2023 molto difficile sui mercati non è detto che faremo un meno 80 spero proprio di no rispetto all'anno 2022 sarebbe un'eccezione però molto difficile quindi sarà un anno per trader un anno per cripto utenti formati e soprattutto sarà molto interessante andare a vedere quello che succederà come reagiranno perché secondo me sarà l'anno in cui noi faremo tabula rasa un reset del settore delle cripto verso i fondamentali quelli veri e da lì potremo iniziare a costruire un mondo che è quello che ci aspettavamo fuori dalla fuffa fuori dalle fesserie da tutti gli scammoni eccetera è interessante secondo me l'anno 2023 è un anno molto interessante speriamo solo di riuscire a sostenere questo mercato il più possibile e tutti quanti insieme come sempre va bene detto questo ciao a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti